Oggi siamo in zona arancione, non posso certo prevedere cosa avverrà nella cabina di regia di venerdì, però i primi elementi di valutazione dei dati che forniremo questa settimana probabilmente ci portano a rimanere in zona arancione. Le preoccupazioni della zona rossa non sembrano così forti come apparivano magari qualche giorno fa, però noi vogliamo prevenire, per prevenire ci sono chiaramente dei focolai in Toscana, soprattutto con queste varianti dette brasiliana o sudafricana che sono preoccupanti per la rapidità di trasmissione del contagio e quindi ad esempio io dopo che ho parlato con voi sarò a Monteroni d'Arbia, dove è uno di questi casi dove stiamo preparando una tamponatura a tappeto della popolazione, come abbiamo fatto a Chiusi, come abbiamo fatto a Sansepolcro. Stamattina parlavo con il sindaco di Cecina dove si prepara una cosa del genere. Noi accanto alla zona arancione prevediamo tutta una serie di restrizioni comune per comune, tipo la chiusura delle scuole laddove questo può diventare elemento di contagio, la zona rossa dove questo preoccupa per le varianti.